Emergenza coronavirus, un nuovo caso in Calabria dopo 8 giorni di assenza. I casi totali salgono dunque a 1159, 97 sono le persone attualmente positive. I carabinieri della compagnia di Tauria Nova hanno seguito 8 sorveglianze speciali comuni della durata variabile da 1 a 3 anni a carico di altrettanti soggetti ritenuti protagonisti di temperamenti violenti e pericolosi in ambito sociale. Castrovilla, rispari contro il ristorante e la seconda intimidazione a distanza di 4 giorni. Cittadini e istituzioni avevano già manifestato nei giorni scorsi vicinanza ai titolari dell'attività, arrestato nella mattinata il responsabile, nell'abitazione dell'uomo, ritrovate oltre 100 armi. La Locride si candida a capitale della cultura italiana 2025. Il GAL Terre Locridee promuove l'iniziativa nella convinzione della dimensione internazionale del territorio e della presenza di un patrimonio unico.